Vai! Basta! Basta questo macello! E' la che stiamo in macelleria qua! Allora, ecco il macellare, ecco Rocco e Cocco! Anche stamattina Rocco si è svegliato, è sceso a fare colazione e qualcuno si era mangiato tutti i suoi biscotti! Bisogna restare colpito! Allora, per acciuffare il colpevole la polizia ci ha fornito un elenco dettagliatissimo di tutti i ricercati! E quindi adesso i bambini, i testimoni dell'accaduto, devono venire qua e procedere al riconoscimento degli indiziati! Allora, chi vuole collaborare con la giustizia? Io! 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 Ilisa Maria, vieni qua! Ah! scegli un indizio dai opla mostriamola alla giuria dai sei pronta? fai attenta eh perché questo questi sono la banda dei pallini gialli dei noti trasformisti tada sei pronta? dai brava tutti insieme pronti via shh pa shh pa ciao Grazie a tutti.